Ciao a tutti, sono Denise Chagnes, sono un'attrice argentina e faccio anche l'acting coach. E poi scrivo tanto, mi piace scrivere. In questo momento sto vivendo a Roma, era tanto che sognavo di fare questa esperienza. Io ho famiglia nella Sicilia e sono venuta tante volte qui in Italia e finalmente sto vivendo qua. Sono appena arrivata dieci giorni fa. Ho cominciato a studiare recitazione da piccola quando avevo 14 anni. Ho studiato con diversi insegnanti in Argentina e anche a Londra. E poi ho iniziato a lavorare quando ne avevo 19 anni. Ho lavorato in cinema, pubblicità, teatro, serie. E in questo anno 2024 ho fatto una serie per la televisione argentina, un cortometraggio e poi un film che si chiama Gosho e sul Netflix.